In questo video parliamo di simpatia, insomma scopriremo come fare per piacere di più nei primi 5 secondi. Questo perché? Beh, perché insomma c'è solo un'opportunità per creare una bella prima impressione e scoprirai anche un fenomeno naturale che però non tutti sono a conoscenza e tu potrai utilizzare a tuo vantaggio. Quindi la domanda è come cambierebbe la tua vita se tu fossi più simpatico, se tu piacesi di più alle persone? Beh, penso che alquanto potrai migliorare la tua vita personale, il tuo lavoro, le tue relazioni, insomma tante cose andrebbero a cambiare. Anche perché il tipo di persone simpatiche sono quelle con cui tutti vogliono stare. Hai presente la persona che quando arriva illumina la stanza? Ecco, la simpatia trasmette questo, trasmette il piacere dell'incontro. Quindi quando incontri una persona che con tutto se stesso, e quindi attenzione qui parliamo di coerenza, incontri una persona che quando ti vede, sorride, il suo linguaggio del corpo è aperto e ti parla trasmettendo il piacere dell'incontro, beh, è completamente coerente, cioè il cerchio è completato, quindi ti fa piacere incontrare quella persona. Per capire come funziona questo meccanismo, parliamo dei neuroni a specchio. Ecco, i neuroni, i neuroni a specchio appunto nel cervello, hanno questa particolarità, ti aiutano a rispecchiare l'altra persona. Sì, questo è un fenomeno biologico che fa parte della specie. Per esempio, nelle diverse specie, quando un membro della comunità fa qualcosa, gli altri che sono vicini incominciano a fare come fa quello lì, e poi gli altri, e poi gli altri, e poi gli altri. Quindi un modo per trasmettere informazione a tutta la comunità. Un esempio, se per esempio sei con un gruppo di amici e da un po' di ore che siete a studiare, e uno incomincia a sbadigliare, è un casino, è un casino, perché tutti pian piano incominciano a sbadigliare. Dopo un po' dovete fare qualcosa oppure vi addormentate. Oppure ancora meglio, se sei sulla metrò, oppure sul treno, e parte una persona con una risata, una grossa, grossa risata contagiosa. Beh, insomma, dopo un po' incomincia a ridere quello accanto, quello accanto, quello accanto, dopo un po' anche te ti sbelichi dalle risate, no? Insomma, è un effetto che va a catena. Ecco, la stessa cosa. Quando incontri una persona e questa ti sorride, è difficile che tu non lo faccia. Anzi, ti fa piacere. Ti consiglio di provare un esperimento. Prova questo. Quando incontri qualcuno, ok, pensaci. Facci un bel sorriso. Salutala col sorriso. Oppure stai camminando, vedi qualcuno e li sorridi. Vedrai che automaticamente non ce la fa, non ce la fa fare diversamente. Le viene da sorridere. Prova questo. C'è un potere straordinario dietro il sorriso. Quindi provala in maniera cosciente. Pensaci. E poi cerca di essere coerenti con il resto dei tuoi messaggi. Sai, tu non puoi non comunicare. Quindi quando incontri una persona, sorridi e trasmettilo con il linguaggio del corpo. Quindi un linguaggio del corpo aperto. Quindi non, hey, ciao, come stai? Ma con tutto il corpo, il busto, che sia ben aperto, che sei ben retto, che sei ben sorridente. Che parli appunto di cose... Solitamente nella fase di simpatia si parla di cose molto leggere. Ok, hey, ciao, come stai? Da tanto che non ci vediamo. Oppure mi fa piacere vederti. Cioè cose molto, molto leggere. In maniera che tutto sia molto coerente. Ora, un consiglio su qualcosa che puoi fare per migliorare la tua simpatia. Prima fai quell'esperimento di cui ti ho parlato. E poi, seconda cosa, potresti imparare a ballare. Sì, ti consiglio questo. Io sono anche un maestro di ballo. Sicuramente il tipo di attività in cui fai qualcosa che ti entusiasma, che ti fa sorridere, che ti fa partire l'endorfina, che ti fa stare bene. Ok, quindi ci sono dei balli come lo swing, il cha-cha, il merengue, cose che ti accelerano la velocità del tuo corpo. E quindi ti riempono di energia, con cui sicuramente migliorerai la tua simpatia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!